Benvenuti a tutti voi, cari spettatori. Prima di immergerci nella notizia che ha scosso il nostro paese, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti e a lasciare un mi piace per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Oggi abbiamo una storia che ha toccato profondamente il cuore di molti, un evento che ha unito persone di ogni ceto in un commovente tributo. Recentemente, la tragica scomparsa di Giulia Cecchettin ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra comunità. La giovane, amata e rispettata, è stata oggetto di un'ondata di cordoglio e sostegno che ha attraversato tutti i settori della società, inclusi i social media, dove anche personaggi famosi non hanno esitato a esprimere il loro dolore e la loro solidarietà. In questo clima di tristezza e riflessione, un gesto ha particolarmente colpito l'opinione pubblica. Adriano Celentano, una figura iconica della musica italiana, noto per il suo stile unico e la sua voce inconfondibile, ha deciso di rompere il silenzio. E l'ha fatto in un modo che solo lui poteva fare, dimostrando ancora una volta la sua capacità di toccare le corde dell'anima. Celentano, a distanza di qualche giorno dalla tragica notizia, ha compiuto un gesto simbolico e potente. Ha riscritto l'Ave Maria in onore di Giulia. Questa decisione, che ha lasciato tutti senza parole, mostra il profondo impatto che la scomparsa di Giulia ha avuto su di lui e su molti altri. Ma prima di rivelarvi il testo di questa commovente versione dell'Ave Maria, permettetemi di raccontarvi come la comunità ha reagito alla scomparsa di Giulia. Dalla celebrazione di un minuto di silenzio a Elodia fino al minuto di rumore all'Università di Padova, ogni tributo è stato un modo per ricordare e onorare la vita di Giulia, un'anima troppo presto scomparsa. E ora, tornando a Celentano, il suo gesto ha rappresentato non solo un tributo, ma anche un simbolo di speranza e di solidarietà. La sua versione dell'Ave Maria, riscritta appositamente per Giulia, è un inno che trascende la religione e parla direttamente al cuore. Ave o Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi uomini assassini, adesso e nell'ora della nostra morte. In conclusione, la scomparsa di Giulia Cecchettin non è solo una notizia da cronaca. È un evento che ci ricorda quanto sia preziosa ogni vita e quanto sia importante supportarsi a vicenda nei momenti di dolore. Il gesto di Adriano Celentano, così come le innumerevoli manifestazioni di affetto e sostegno da parte della comunità, ci insegnano che anche nel buio più profondo c'è sempre spazio per la luce dell'amore e della solidarietà. E ora, cari spettatori, vorremmo sapere da voi. Cosa pensate di questa incredibile notizia e del gesto di Adriano Celentano? Lasciate un commento qui sotto e condividete i vostri pensieri. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere le prossime notizie. Grazie per averci seguito. A presto.